Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Questo video è sponsorizzato da Filmora9, il programma di montaggio che utilizzo per montare tutti i miei video e il programma che ho utilizzato per montare questo video. Infatti spesso mi chiedete che programma di montaggio uso, beh, adesso lo sapete. Filmora9 è semplicissimo da utilizzare, è adatto a tutti ed è proprio per questo che ve lo sto consigliando. Vi permette infatti di realizzare e montare i video in maniera professionale, in maniera veramente semplicissima. Al suo interno ci sono diverse funzionalità di cui io chiaramente non posso fare a meno, ma se inizierete a utilizzare il programma, anche voi non potrete farne a meno. Sto parlando chiaramente della possibilità di aggiungere filtri, color correction, scritte, testi e anche sticker ai vostri video. Si può chiaramente aggiungere anche musica di sottofondo. C'è la possibilità di utilizzare lo split screen. Cosa vitale per me, le transizioni ragazzi, per collegare le varie parti dei video, come quelle che vedrete proprio in questo video. Infine ragazzi, c'è anche la registrazione dello schermo, utilissima. Insomma, tutto quello di cui un montatore video, un videomaker, ha bisogno. Scaricate subito Filmora9 gratuitamente dal primo link in descrizione per intraprendere finalmente la strada del videomaking. Cosa andremo a fare oggi ragazzi? Andremo a fare l'ultimo speciale dedicato alla carriera allenatore con il Colchester, ovvero il pagellone nel quale andremo a dare i voti a ogni giocatore che ha indossato la maglia del Colchester anche solo per una giornata. Vi dirò i miei migliori, i miei preferiti, i peggiori. I miei migliori, sì, non lo so. I peggiori, secondo me, di questa carriera. Mi raccomando ragazzi, ci tengo molto. Fatemi sapere quali sono stati i vostri calciatori preferiti, i vostri top, i vostri flop. E fatemi sapere magari qualche voto. Che voto dareste a determinati calciatori? Mi raccomando, fatelo. Ci tengo a ricordarvi anche ragazzi che è uscito l'ultimo Road to Victory di FIFA 20. Quindi mi raccomando andate a recuperare anche quello, ci tengo moltissimo. Lo trovate comunque sul canale, in descrizione e a fine video. Mi raccomando recuperatelo. Io direi ragazzi di non perdere tempo, possiamo cominciare. Vi spoilerò già che ci sono, se non sbaglio, 4-10, ma ci sono dei voti anche molto bassi. Provate a indovinare di chi si tratta. Partiamo subito ragazzi con il portiere. Dean Jerken. Gerken fa lo stesso. Che voto do a Jerken? Ragazzi gli do 10. Gli do 10, voi direte ma come 10? Ragazzi, Jerken è stato con noi per tre stagioni, però ha fatto la differenza in queste tre stagioni. Io valuto le tre stagioni. Non solo è stato un idolo dal punto di vista proprio come storie, il fatto che fosse un porno attore. È stato simpatico leggere i vostri commenti e scherzarsi su. Ma non dimentichiamoci il suo ruolo. È stato fondamentale nei tre anni che è stato con noi. Comunque è stato fondamentale negli anni in cui ha giocato. Aveva un overall basso, ma era un portiere fortissimo ragazzi. Ha difficilmente fatto delle gran cappelle, faceva delle gran parate, ma grazie alle sue parate nei calci di rigore, ragazzi, siamo andati avanti nelle competizioni. È stato fondamentale, simpatico, forte, assolutamente sottovalutato perché si pensava fosse una pipa al sugo e invece era un ottimo portiere. Quindi assolutamente 10 per Jerkian. È stato uno dei miei idoli di questa carriera allenatore. Andiamo spediti ragazzi perché c'era un altro portiere, Bailey Voss. Zero presenze, venduto per 100.000 euro la prima stagione, senza voto per lui. Altro portiere, Ethan Ross. Due presenze e mezzo, più o meno. Ha fatto, credo, due partite da titolare e una partita da subentrato. Venduto a gennaio della prima stagione per 350.000 euro. 5.5 il mio voto perché in quelle due presenze le ho riguardate. In una ha fatto discretamente bene, nell'altra male e quando è subentrato ha fatto male. Quindi insufficienza per lui. Altro portiere, Freddy Woodman. Lui lo conosciamo un po' meglio, l'abbiamo preso a zero alla fine della seconda stagione. Ci abbiamo fatto una plusvalenza quando l'abbiamo venduto per 15.200.000 euro all'inizio della sesta stagione. Però purtroppo ragazzi, tocca dargli anche lui un'insufficienza. 5.5 di voto. 5.5. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto sinceramente. Non è stato uno dei miei portieri preferiti. Ha alternato discrete prestazioni a pessime prestazioni. Assolutamente insufficiente per quanto mi riguarda. Attenzione ragazzi perché quelli della primavera li metterò alla fine. Quindi se non trovate Ethan Davis questo è il motivo. Altro portiere, Yvonne Vogot. Preso all'inizio della sesta stagione per 17.400.000 euro. Il voto che gli do è stato 6 più. Perché quando si è infortunato Ethan Davis è stato assolutamente importante. Ha fatto delle buone parate, delle buone prestazioni. Però non è un fenomeno. Quindi 6 più assolutamente meritato per lui. Passiamo alla fase difensiva ragazzi. Abbiamo Cohen Bramal, terzino sinistro. Che purtroppo ha chiesto la cessione a gennaio. Che ho inserito nello scambio per acquistare Sican. Gli do 6 perché non era assolutamente marcio. Mi dispiace non averlo utilizzato di più. Ed è uno di quei terzini che mi sarei potuto tranquillamente portare fino alla fine. Mi dispiace non averlo allenato. E mi dispiace averlo perso così presto. Altro terzino sinistro. Clamping ragazzi. Ha avuto una presenza. Venduto per 310.000 euro. In quella presenza ha fatto cagarissimo. Io gli do 5. Non tanto Clamping. Chi se lo ricorderà. Passiamo a un altro terzino sinistro fondamentale per la mia carriera allenatore. Hickey ragazzi. Aaron Hickey. Diventato anche lui. Forse uno degli idoli del canale. Come ben sapete è andato al Bologna. L'abbiamo preso con un overall di 64. L'abbiamo comprato alla prima stagione per 420.000 euro. Più Gambin. Trequartista del Colchester. E una clausola della rivendita dell'1%. Pensate se l'avessi rivenduto alla fine della sesta stagione. Anche quell'1% sarebbe stato tantissimo per gli arts. A Hickey gli do 9.5. Voi direte cazzo mezzo che stronzo. Potresti dargli 10 a Hickey. È vero. È vero ragazzi. Gli do 9.5 perché è stato un grandissimo terzino. È stato veramente un grandissimo terzino. Difensivamente parlando. Mi è mancato quel mezzo punto. Se devo essere sincero. Mi è mancato quel mezzo punto. Per farlo arrivare 10. In fase offensiva. È vero che spingeva come un dannato. Però forse mi sarei aspettato quell'assist in più. Quel gol in più. Quello zampino in più. Magari in tutte le stagioni che l'abbiamo tenuto. Attenzione ragazzi. 9.5 è un voto altissimo. Cioè io vi consiglio Hickey ogni volta. Può fare sia il terzino sinistro che il terzino destro. Difensivamente è perfetto. Fisicamente può anche tenere. Magari non è un mostro. Però è sempre ben posizionato. Ha una buona corsa. Ha una buonissima resistenza. Però proprio come protagonista nelle zone salienti del campo. Magari mi sarei aspettato un pochettino di più da Hickey. Però assolutamente fenomenale questo giocatore. Altro terzino sinistro. Hubert Matinia ragazzi. L'abbiamo preso a zero. Se non ricordo male ragazzi. Alla prima stagione. Non me lo sono segnato. L'abbiamo poi rivenduto a gennaio della quarta stagione. Per un milione e nove. Quindi anche qua c'è stata una buona plus valenza. 6,5 di voto per Hubert Matinia. Che ha fatto assolutamente il suo. Non ha rotto le palle. È stato un buon terzino sostituto di Hickey. Poi dopo chiaramente il livello doveva alzarsi. Però se vi ricordate l'ho sempre apprezzato. E è stato assolutamente un ottimo sostituto. Altro terzino sinistro. Ragazzi l'ultimo se non sbaglio. Francisco Ortega. Acquistato a gennaio della quarta stagione. Proprio perché abbiamo ceduto Matinia. Il voto che gli do ragazzi è 7. È stato veramente un ottimo terzino. Uno di quei terzini che vi straconsiglio anche a voi. Davvero tanta roba. Ottima corsa. Ottima fase difensiva. Lui è stato effettivamente forse un pochettino più presente in fase offensiva. Davvero tanta roba questo terzino. Quindi il 7 secondo me se lo merita tutto. Passiamo alla difesa centrale. Tom Eastman. L'uomo dell'Est. Beh a lui posso solo che dargli 8. È stato davvero un ottimo difensore. È stato fondamentale nelle prime stagioni. Si è comportato molto bene ogni volta che l'abbiamo messo in campo. Ma è proprio forte ragazzi. È proprio forte Tom Eastman. Presenza fisica. Ottima fase difensiva. E anche quando l'ho messo in campo o più avanti per dargli qualche minuto così a caso. Perfetto. Sempre perfetto. Vi ricordate una volta che si è lamentato Tom Eastman? No. Quindi. 8 per lui. Luke Prosser ragazzi. Capitano della prima stagione che si è ritirato poi un paio di stagioni dopo. Voto 6. Non l'abbiamo utilizzato tantissimo ma non è stato né uno schifoso difensore centrale né un fenomeno. Quindi penso che la sufficienza se la sia discretamente meritata. Ma non verrà chiaramente ricordato per le sue grandissime prestazioni. Danny Collins ragazzi. Scambiato per Sabby. Zero presenze per lui. Scambiato nella prima stagione per Sabby. Senza voto. Senza voto anche Ollie Kingsdale. Zero presenze. Se vi ricordate è stato il difensore che ho deciso di cedere per far spazio a Weir. Un peccato non aver utilizzato Kingsdale perché poteva essere interessante ma ho deciso di utilizzare Weir. Weir al quale do tra il 6 e il 7. Inizialmente è stato complicato utilizzarlo. Era molto lento. Molto alto. Un po' macchinoso. Ho fatto un po' di fatica. Poi si è ripreso. Giusto secondo me fargli arrivare quasi al 7. L'ho un po' perso di vista nelle ultime stagioni. Perché comunque c'era bisogno di avere un livello molto più alto. Passiamo a una delle più grandi delusioni di questa carriera allenatore ragazzi. Lo dico proprio sinceramente. Sto parlando di Omar Souunmi. Difensore sul quale io avrei voluto puntare tantissimo ma che si è rivelato una pippa al sugo. E mi dispiace perché si poteva veramente lavorare tanto su di lui. Forse sono stato io a non riuscire a dargli quello spunto in più. Io a Souunmi gli do 4 di voto. Ha fatto una marea di danni. Una marea di danni. Ceduto alla fine della prima stagione per 720.000 euro. Ma veramente un disastro dopo l'altro. Passiamo a Nathan Wood. Uno dei protagonisti di questa carriera allenatore. Preso a gennaio della prima stagione per 450.000 euro. 62 di over all'iniziale. Fate voi. Il voto che gli do è 9. Perché è stato un ottimo difensore centrale. È stato fondamentale in alcuni frangenti. Ve lo andrei comunque a consigliare. Ma quando penso a Wood non penso a... Madonna che bestia difensiva. Cioè era quasi sempre ben piazzato in difesa. Ben posizionato in difesa. È cresciuto a bestia. È diventato un difensore centrale molto forte. Ma non gli do 10. Neanche 9.5. Perché secondo me non è stato un difensore centrale devastante. Proprio come magari altri difensori centrali che ho provato. Passiamo ad un altro giocatore che forse in pochi si ricorderanno. Ovvero Miles Welch-Eyes. Preso a zero alla fine della prima stagione. Scambiato con Portius all'inizio della stagione successiva. Zero presenze per lui. Senza voto. Passiamo subito a Ryan Portius. Scambiato appunto con Welch-Eyes. 2.500.000 euro. Più una clausola della rivendita del 14%. Anche lui non l'abbiamo più venduto. Il voto che gli do a Portius è stato 7. Una stagione altalenante. Mi dispiace perché secondo me nella realtà anche ragazzi questo giocatore è assolutamente da tenere d'occhio. Per me se ne parlerà. In ogni caso non è stato anche lui un centrale devastante. Davvero tanti, troppi alti e bassi. Giocatore che ha fatto bene in alcuni frangenti. Male in altri. Tant'è che ogni tanto abbiamo anche pensato di venderlo. Quindi secondo me il voto è comunque positivo. Perché ha tenuto sulla baracca insieme a Wood per parecchi anni. E se fosse stato così una pippa l'avrei comunque venduto. È stato un difensore centrale positivo. Ma anche ha vissuto momenti tra troppi alti e bassi. Passiamo agli altri centrali acquistati. Suttar acquisito all'inizio della quarta stagione per 11.500.000. Venduto a gennaio. Poi per 22 milioni. Fate voi. Fate voi ragazzi. Il voto che gli do però è 5 meno. Non sono mai riuscito a trovare un vero sostituto in difesa di Wood praticamente. Spero non ci siano delle dimenticanze. Nel caso fatemelo sapere sotto nei commenti. Darò il mio voto nei commenti. Ma direi che non mi sto dimenticando nessuno. Dicevo Suttar 5 meno. È stato un cattivo centrale. Per quel poco che l'abbiamo utilizzato non mi è per niente piaciuto. Peccato. Altro centrale sul quale purtroppo non siamo riusciti a fare affidamento è Lautaro Valenti. preso a gennaio della quinta stagione pagando la sua clausola di 5 milioni e scambiato poi con Paiva all'inizio della sesta stagione. Tra il 4 e il 5 per lui. Anche se sono più indirizzato per il 4. Ecco. Un pessimo centrale su tutti i punti di vista. Errori su errori. Per quel poco l'abbiamo utilizzato. Non lo sto bocciando proprio come giocatore. Perché secondo me come giocatore non è male ma andrebbe approvato magari in altre circostanze. Passiamo ai terzini destri. Ryan Jackson. Il primo terzino che abbiamo utilizzato nel Colchester. Venduto alla terza stagione per 450 mila euro. Un bel 8 per lui ragazzi. Davvero tanto. Vi ricordate quanto lo stimavo. Davvero un ottimo calciatore. Grande corsa. Grande progressione. Davvero un gran terzino destro. 8 se lo prende anche Taffarimur ragazzi. Acquistato per 120 mila euro con l'8% della clausola. Più Cainesdale. Il difensore centrale di cui abbiamo parlato prima. Taffarimur che è rimasto con noi fino alla fine della carriera allenatore. Il suo overall basso non pesava assolutamente sul giocatore. Grande corsa. Grande fase difensiva. Ottimo fisico. Davvero un ottimo terzino sinistro che vi straconsiglio. 8 per lui. Minimo ragazzi. Ha tenuto botta fino alla fine. Tanta roba. E vi ricordo. Giovanni dell'Arsenal. Tanta roba. Passiamo all'altro terzino destro. Cedric Soares. Forse uno dei più grandi errori fatti da me. In questa carriera allenatore si poteva evitare anche di prenderlo. Preso a zero alla gennaio della seconda stagione e rivenduto poi nello scambio con Luis Suarez. Il mio voto è 5 ragazzi. Non mi è piaciuto. Mi aspettavo da lui. Esperienza. Non è riuscita a darmela. Quindi assolutamente insufficiente per me le sue prestazioni. Pedro Porro ragazzi. Acquistato all'inizio della quarta stagione per 18 milioni. Con il 5% della clausula della rivendita. 80 di over all'inizio. Se non ero affinato con 88. 8 di voto per lui. Non mi ha impressionato la prima stagione. Dopo ha iniziato a macinare chilometri. E lui è stato molto più incisivo secondo me. In fase d'attacco. Ha creato molte più opportunità. Ha creato molte più azioni. E mi è piaciuto veramente tanto. Pedro Porro è una bestia ragazzi. Da questo punto di vista. Grande corsa. Grande falcata. Ottima resistenza. Spero di non essermi dimenticato nessuno ragazzi. Ma concludiamo così la linea difensiva. Passiamo al centro campo. E qui secondo me ragazzi. Zona migliore di tutti quanti. Perché abbiamo Tom Lapsley. Mediano. Che ve lo ricorderete sicuramente. Molto piccolino. Era con noi dall'inizio. Venduto poi per un milione. All'inizio della terza stagione. Io il voto che gli do è stato 7 e mezzo. Nelle due stagioni in cui l'abbiamo utilizzato. È stato fondamentale. Ha fatto qualche gol anche importante. Davvero un buon mediano. Altro mediano. Brandon Comley. 6 e mezzo per lui. Non è stato fenomenale. Gli preferivo Lapsley la maggior parte delle volte. Però non è stato neanche una pippa al sugo. Cioè se vi ricordate. All'inizio delle prime stagioni. Dicevo. Cavolo che bel centro campo. E infatti non ho praticamente venduto nessuno. Ho ottenuto Lapsley. Comley. Stevenson. Pell ragazzi. Perché abbiamo anche Harry Pell. Venduto all'inizio della terza stagione. Per 750.000 euro. Voto 6 e mezzo. Cioè tutti i miei centrocampisti. All'inizio. Erano veramente tanta roba. Si completavano. A vicenda. E quindi perché. Darli via. Assolutamente. Voti positivi. Meritatissimi. Passiamo. Facciamo un po' Un po' di confusione qua. Adesso andiamo anche sugli esterni. Magari. Perché me li sono scritti. Se no poi mi perdo. Per quanto riguarda l'esterno sinistro. Abbiamo Junior Ojedi Uzzocue. Esterno sinistro. Che ha avuto solamente una presenza in precampionato. Venduto all'inizio della prima stagione. Per 215.000 euro. Senza voto. La prestazione che aveva fatto. Era stata discreta. Comunque si può dare 6. Ma preferisco dargli. Senza voto. Frank Noble. Ragazzi. Big Nob. Esterno sinistro. Attaccante. Che se vi ricordate. Alla prima stagione. Ha tenuto in panchina. James Scott. Un certo James Scott. Beh ragazzi. Per quello che l'abbiamo tenuto. Gli posso solo che dare 8. Perché. Quando è stato protagonista. Ha fatto veramente il devasto. Questa bestia. Che può fare l'esterno sinistro. Ma anche l'attaccante. Ha fatto gol. Ci ha fatto divertire. Assolutamente. Secondo me. 8 meritato. E anche le volte che l'ho messo in campo. Poi verso la fine. Giocava bene. Ci aveva tipo 58 di overall. Cioè non gli si poteva chiedere più di tanto. Davvero però. Un ottimo calzatore Frank. Sono molto contento di averlo utilizzato. Altro esterno sinistro. Callum Harriet. È un esterno sinistro. Che ha chiesto l'accessione. E l'abbiamo venduto. La fine. Della prima. Per un milione. Se non ricordo male. Allo Stoke City. Mi è dispiaciuto tantissimo venderlo lui. Perché era. Veramente forte. Gli do 6 e mezzo. È stato molto importante per noi. In quella unica stagione. Che ha giocato. Però molto veloce. Molto rapido. Assolutamente un esterno sinistro. Che vorrei riutilizzare. Signori. Adesso c'è un giocatore. Che secondo me. È stato. Il fulcro. Della carriera allenatore. Se voi mi chiedete. Qual è stato il miglior giocatore. Della carriera allenatore. Io vi dico lui. Ben Stevenson. Ragazzi. Io a Ben Stevenson. Gli do 10. Gli do 10. Perché è stato. Pazzesco. Nelle prime stagioni. Di Lega Bassa. Ma io mi ricordo. In un episodio. Che ho detto. Adesso vediamo Stevenson. Vediamo se regge. Il livello. Perché ragazzi. Quando si arriva in premier. È proprio una questione. Di reggere il livello. Stevenson non solo ha retto il livello. Ma era anche. Più. Di livello. Rispetto ai vari. Magari Fabinho. Ndidi non lo so. Ndidi era veramente mostruoso. Ma. Rispetto a tutti gli altri. Mediani centrocampisti. Delle squadre di premier. Stevenson è stato. Una spanna sopra. Praticamente a tutti. Era ovunque. Gol. Assist. Chiusure difensive. Pochissimi errori. Veramente qualcosa di clamoroso. Questo Ben Stevenson. Una sorpresa. Inaspettata. Sono stato veramente molto contento. Di averlo tenuto. Fino alla fine capitano. Dalla league one. Ragazzi. È stato. Il mio giocatore. Dalla prima partita. Di league two. Scusate. Fino. All'ultima partita. Di champions. Barra premier league. Stevenson. Mostruoso sotto tutti i punti di vista. Veramente qualcosa di incredibile. Passiamo a Kwame Poku. Giocatore con. Dalle. Non lo so. Ho fatto un po' di fatica a dargli un voto. Ragazzi. Il nostro trequartista. Con noi dall'inizio. 60 di overall. Gli ho dato 7 e mezzo. Alla fine. Gli ho dato 7 e mezzo. Anche se più 7. Forse. Si meriterebbe. Per le rotture di cazzo. Che ci ha fatto. Però. È stato molto importante per noi. Alla prima stagione. Anche nella seconda. Nonostante comunque poi successivamente sia arrivato Johnston. L'anno in cui ha giocato al posto di Johnston. È stato devastante. Numeri molto alti per lui. E dopo ne andremo a parlare. Quindi. Comunque. Una carriera natura positiva. Per lui. Assolutamente. Senza dubbio. Altro trequartista. Luke Gambin. Veduto in scambio. Ragazzi. Non mi ricordo sinceramente quando. Zero presenze per lui. Senza voto. Ma comunque all'inizio della prima. Se non ricordo male. Altro trequartista. Andrea Zanalli. Che è sempre andato in prestito. Più o meno. A parte le prime due stagioni. Dalla quarta stagione. È andato in prestito. Poi l'abbiamo venduto all'inizio della sesta. Il do sei e mezzo. Il do sei e mezzo. Perché quando entrava e giocava. Faceva molto bene. Piccolino. Mi dispiace non averlo sfruttato. Perché secondo me lui ha un ottimo potenziale. Altro esterno. Questa volta a destro. Michael Fernandez. Venduto a 250k. Alla fine della prima stagione. Zero presenze. Senza voto. Per lui. Passiamo a Courtney Senior. Esterno destro. 65 di overall per lui. All'inizio. Io gli do sette e mezzo. E anche lui forse. Si meriterebbe il sette. Vi spiego perché. Perché è stato molto importante. Quando si saliva di livello. Per spaccare un po' le partite. Però. All'inizio. Ho fatto molta fatica a utilizzarlo. Non buttava dentro una palla. Si faceva fatica. A far gol con Senior. Nonostante spaccassi completamente le partite. All'inizio. Era un po' deluso. Alla prima stagione. Se vi ricordate. Era partito fortissimo per campionato. Poi il campionato. Della prima stagione. E' stato. Oddio. Mi aspettavo di più. Però poi dopo. Ha preso campo. Ha dovuto fare anche il centrocampista centrale. Lo mettevo come attaccante. Penso si meriti. Un sette e mezzo. Perché comunque. Anche lui. Ha tenuto botta. Paris. Co1-1-all. Esterno destro. Che segna anche. Qualche gol. Venduto però. A gennaio. Per Dharami. 6 per lui. Non è stato un fenomeno. Non è stato neanche una pippa. Si poteva utilizzare. Forse anche per più tempo. Però 6 per Co1-all. Assolutamente interessante. Quel giocatore. Anche se non era più. Un giovanotto. Passiamo a. Dharami. Ragazzi. Mohamed Dharami. Io rivedendo gli episodi. Dove c'era Dharami. Mi sono messo veramente. Le mani nei capelli. Errore clamoroso. Acquistarlo. Veramente. E nonostante tutto. Aveva dei dati. Molto importanti. Preso a gennaio. Scambiato appunto. Con Co1-all. Per 480k. E la clausola della rivendita. Dell'1%. L'abbiamo venduto. All'inizio della terza stagione. Per 13.3 milioni. Io a Dharami. Ragazzi. Li do 3. Nonostante abbia fatto qualche gol. Era di una scarsezza. Inimmaginabile. Aveva dei dati. Di velocità mostruosi. Ed era. Lento. Come un sacchetto. Veramente. Della spazzatura. Che lo metti lì fermo. E va più veloce. Di Dharami. Scarso comunque. In fase offensiva. Non era né veloce. Non aiutava in difesa. Non faceva assolutamente niente. Inutile Dharami. E gli do 3. Perché secondo me. 3 è il voto più basso. Che gli si può dare. Davvero. Veramente. Una schifezza. Colossale. Passiamo a Ferguson. Centrocampista centrale. Che abbiamo acquistato all'inizio. Della seconda stagione. 71 di overall. Ed è cresciuto molto. Scambiato con. Giovanni Brown. Un trequartista. Al quale do. Senza voto. Che ritorno dal prestito. E non ho mai utilizzato. E ho utilizzato in scambio. Appunto per Ferguson. Gli do 8. Ferguson non è stato. Verso la fase finale. Protagonista. Proprio. Per quanto riguarda il gol. Eccetera eccetera. All'inizio. Quando l'abbiamo preso. Fu molto più. A suo agio. L'ho visto molto più. A suo agio. Però Ferguson. Ha sempre dato. Una grande mano. Dal punto di vista. Dell'equilibrio. Della squadra. Difensivo. Più che altro. Copriva spesso. Quando Porro. Avanzava. Non si faceva notare. Più di tanto. Però secondo me. È stato. Fondamentale. Proprio. Nell'equilibrio. Della squadra. Quindi. Un bel 8. Per Ferguson. Assolutamente. Meritato. Makai Steven. L'abbiamo acquistato. All'inizio della seconda stagione. Per 1.400.000 euro. Più o meno venduto. Con minus valenza. Il voto è 5. Non che mi aspettassi. Chissà che cosa. Makai Steven. Però ecco. Mi aspettavo un giocatore. Un pochettino più. Pimpante. Un pochettino più grintoso. Niente di che. Sinceramente. Passiamo a. Tom Lawrence. L'ubriacone. Preso a zero. A gennaio. Nella seconda stagione. Venduto a inizio della quarta. Per 8.500.000 euro. Venduto più che altro. Perché non c'era più spazio per lui. E non avevo modo. Di farlo giocare. Perché come. Sulla tre quarti. Avevo poco e Johnston. Non potevo farlo giocare. Da mezzala. Né da punta. Lui era all'esterno sinistro. Ed era quel periodo. In cui ho cambiato modulo. Però a Tom Lawrence. Gli do 6.500. Perché quando ha giocato. Ha giocato bene. Avevo chiesto a lui. Una. Un po' di esperienza. E Tom Lawrence. Me l'ha data. Senza dubbio. Un ottimo giocatore. Che mi è dispiaciuto. Purtroppo. Vendere. Passiamo a Michael Johnston. Ragazzi. Acquistato per 7.500.000. All'inizio della terza stagione. Con 74.000 di overall. Io a Johnston gli do 9. Un giocatore. Veramente incredibile. Veramente. Pazzesco. Sotto tutti i punti di vista. Ragazzi. Tecnica. Gol. Assist. Fatto agire. Come falso nuove. Che si potesse infiltrare. Tra le due punte. Veramente. Devastante. Un giocatore. Con una classe. Senza. Senza pari. Praticamente. Senza pari. Davvero tanta roba. Johnston. Passiamo a Matthew Longstaff. Inizio. L'abbiamo acquistato all'inizio della terza stagione. Per 5.300.000. L'abbiamo venduto. All'inizio della sesta. Per 51.400.000. Mila euro. Voto che gli do. 6.500.000. Ragazzi. Non è stato fenomenale. Ha stato un ottimo calciatore. Non è 6.500.000. Ragazzi. Non è un voto. È stato neutro. Ha fatto i suoi gol. I suoi assist. Ha fatto il suo sporco lavoro. Però. Non me lo ricorderò. Longstaff. Come un fenomeno. Il fenomeno del centrocampo. Passiamo a. Pansu. Belli ruddo con Pansu. Ragazzi. Acquisato all'inizio della terza stagione. Per 1.300.000. Venduto all'inizio della quinta. Il voto che gli do. Come porta borraccia. È stato 10. Come voto normale. Gli do 6. Ragazzi. Perché io non l'ho fatto giocare molto. Però le volte che giocava. Pansu. Ha giocato sempre bene. Prestante fisicamente. Un ottimo mediano. Non era scarso un pazzo. Ragazzi. Era forte. Ma io l'avevo acquistato. Proprio per fargli fare. Con le poche presenze. Passiamo a Todd Cantwell. Purtroppo. Todd Cantwell. L'abbiamo preso a zero. L'abbiamo rivenduto per. 27 milioni. Alla quinta stagione. Purtroppo. Anche lui è arrivato. Nel periodo. In cui abbiamo cambiato modulo. E gli do 6 meno. Ma per colpa mia. Ragazzi. Per colpa mia. 6 meno. Perché purtroppo. Non l'abbiamo utilizzato bene. Cantwell. Mi sarebbe piaciuto utilizzarlo. In maniera diversa. Io lo utilizzavo da mezz'ala. Ma era sprecato. Quindi Cantwell. Secondo me. Quasi una. Un'insufficienza. Per lui. Passiamo a Ben Pearson. Ragazzi. A Ben Pearson. Che abbiamo acquistato. All'inizio della quarta stagione. Usato dal computer. Era devastante. Quando l'ho utilizzato io. Sono rimasto un po' deluso. Vi dico la verità. Un po' deluso. Ma non tanto da dare un'insufficienza. Gli do 6 a Ben Pearson. Venduto. Una stagione dopo. Perché volevo qualcosa di livello. Qualcosa che alzasse il livello del centrocampo. Del nostro Colchester. Però non è stato marcio Pearson. Io non mi sento di dargli un'insufficienza. Ha fatto il suo sporco lavoro. Quando ha giocato. Niente più. Niente di meno. Passiamo a Danza Kuduro. Ragazzi. Acquistato alla fine della quarta stagione a zero. A Danza Kuduro. Gli do 7 meno. Secondo me è stato un ottimo centrocampista. Lui ha alzato il livello. Rispetto a Pearson. Fisicamente c'era. Ed era secondo me. Il giusto sostituto di Stevenson. Forse si poteva usare qualcosina di più. Ma Danza Kuduro ha fatto assolutamente. Il suo sporco lavoro. Chi ha fatto sicuramente il suo sporco lavoro. È stato Xavier Schlager. Ragazzi. Acquistato all'inizio della quinta. Per 37 milioni e 600 mila euro. 9 di voto per lui. Fenomenale questo giocatore. L'ho acquistato perché mi scriveva una mezzala. Che mi potesse dare una mano con gli assist e i gol. Schlager è stato fondamentale da questo punto di vista. Ha fatto assist. Gol. E ha fatto gol anche importanti. Se non erano in finale d'Europa League. In ogni caso ha aiutato la squadra. Anche sia difensivamente che offensivamente. Altro centrocampista. Florian Neuhaus. Che abbiamo acquistato a gennaio della quinta stagione. A zero. Gli do 7 e mezzo. È stato pulito. Assolutamente importante. Se non ero ha segnato anche in finale di Champions. Ma detto questo. Uguale a Ferguson. Non è stato uno di quei giocatori di spicco. Ma aiutava tantissimo nella fase di equilibrio. Nella fase difensiva. Dava equilibrio alla squadra. Non c'è un cacchio da dire. Veramente un ottimo centrocampista. Passiamo a Simo Spiva. Che l'ho messo tra i centrocampisti. Ma aveva anche come ruolo il difensore centrale. Preso alla sesta stagione. Scambiato con Valenti. Più 32 milioni. Per quello che l'ho pagato. Mi verrebbe da dargli un'insufficienza. Però non è affatto clamorosi errori. Cioè io gli do 6. Da difensore centrale se l'è cavata. Il livello era alto. Da mediano. Quando l'ho utilizzato penso un paio di volte. Ha fatto comunque discretamente bene. Quindi 6. È più che onesto. Passiamo agli attaccanti. Ragazzi. Abbiamo Luke Norris con noi dall'inizio. Cessione chiesta a gennaio. Una pipa al sugo ragazzi. 4. Veramente scarso scarso questo Luke Norris. Theo Robinson e Freddie Hintz. Due attaccanti che erano in prestito. Non li ho mai utilizzati. Zero presenze per Hintz. Una presenza per Robinson. Comunque senza voto. James Scott ragazzi. Acquistato per 645 mila euro. Con 62 di overall. Sapete bene com'è finita. A James Scott gli do 10 ragazzi. Gli do 10 perché è stato importantissimo. Non solo dal punto di vista realizzativo. E vedrete che ha segnato molto di più alla fine Scott che all'inizio. È stato molto importante per noi nelle ultime stagioni. Perché ha segnato davvero tanto. Gli do 10 perché è stato importante non solo dal punto di vista realizzativo. Ma soprattutto gli do 10 perché è stato molto importante per tutta la squadra. Quando non segnava lui faceva segnare. Magari non sempre con il passaggio finale. Ma proteggendo palla. Aiutando comunque i compagni. Venendo incontro. Gli do 10 poi perché è stato un attaccante che nessuno conosceva. E che ho scoperto. E che ho coccolato. E che mi sono coccolato io. 10 lo do a Scott. 10 lo do anche a Emmanuel Sabi per forza ragazzi. Fondamentali. Entrambi fondamentali. Dalla prima all'ultima stagione. Se mancava uno c'era l'altro ragazzi. Cioè se mancava Scott c'era Sabi. Se mancava Sabi c'era Scott. Si sono completati a vicenda. Sabi ha segnato molto di più rispetto a Scott. Entrambi hanno avuto veramente momenti morti. Però si sono supportati a vicenda. Per un attimo abbiamo anche pensato di venderli ragazzi. Ma cosa volevamo fare? Grandi ragazzi. Passiamo a Sikan. Che rivedendo i video. Sikan comunque qualche volta la buttava dentro. Non era così marcio come Darami. Nonostante tutto ragazzi. L'abbiamo preso a gennaio. 485 mila euro. Più Bramal. Venduto poi per 25 milioni. Gli do 5 a Sikan. Il Sicario purtroppo era troppo macchinoso. Troppo lento. Ha fatto male. Ha fatto male. Ma non malissimo come Darami. Passiamo a Johnson Clark Harris. Che scoperta anche Clark Harris. Preso alla fine della seconda stagione a zero. Ragazzi. 7 e mezzo per Clark Harris. È stato fondamentale. Ha svoltato parecchie partite. Ha giocato bene. Fino alla fine. Davvero un ottimo attaccante lui. Bello tosto. Bello tamugno. Un buon mancino. Quindi assolutamente positivo. Il suo campionato. Passiamo a Luis Suarez. Acquistato all'inizio della quarta stagione. Per circa 10 milioni. Più Cedric. Venduto all'inizio della quinta. Per circa 22 milioni. A Suarez gli do 6 meno. Da lui mi sarei aspettato qualcosina di più. Se vi ricordate l'abbiamo preso. Perché aveva fatto il devasto l'annata precedente. E non è stato a livello di Scott. Se devo essere sincero. Quindi 6 meno per Luis Suarez. Passiamo a Avea Puado. Ragazzi. E Daka. Prima Puado. Acquistato all'inizio della quinta stagione. Per 32 milioni. Venduto per 40 milioni. 6. Non è stato importante. Ragazzi. Non è stato fondamentale. Non ha fatto chissà che giocate. Qualche gol importante l'ha buttato in porta. Ma niente di che. Se lo do anche a Daka. Che comunque. Buon impatto. Acquistato all'inizio. Scusate. A gennaio della sesta stagione. Scambiato con Dennis. Più 14 milioni. Non è che ha fatto chissà che cosa. L'impatto è stato discreto. Ma. 6. Secondo me. Se lo merita. Passiamo a Emanuel Dennis. Acquistato. Che. Prima. L'acquisto più. Costoso. Della storia del Colchester. Beh. Acquisto. Peggiore. Noi non potevamo farlo. Gli do 3. Gli do 3 come a Darami. Ragazzi. È stato veramente uno schifo. Ha giocato mezza stagione. Cioè. Aveva 99 di velocità. 99 di dribbling. 99 di agilità. E non. Non faceva nulla. Non riusciva a superare mezzo giocatore. Non riusciva a prenderlo in velocità. Non faceva assolutamente niente. Scarso. Come pochi Dennis. Sono rimasto delusissimo. Veramente. Ragazzi. Da questa scelta. Non me lo sarei mai aspettato. Ha acquistato. Per. Cercare di sostituire. Sabbi. Ma. Minimamente. Non c'è riuscito. Chi è riuscito invece. A farsi rispettare. È stato Dodi. Lukebacchio. Preso a gennaio della sesta. Per. 23 milioni e mezzo. Impatto mostruoso. Per lui. 7 di voto. Per. Lukebacchio. Qualcosa di. Incredibile. Veramente. Un buonissimo giocatore. Passiamo adesso. Alla primavera. Ragazzi. Jonathan Griffith. Un ala sinistra. Che ha avuto qualche presenza. Con noi. L'abbiamo poi venduto. Alla sesta stagione. Per 16 milioni. Gli do 6 e mezzo. Perché quando giocava. È stato molto bravo. Ha. Si è guadagnato anche qualche rigore. Se non ero. Ha fatto anche qualche gol. Un buon. Una buona ala sinistra. Che non sono riuscito a fare. Crescere. Aidan Harrison. Un atti venduto. A gennaio della seconda stagione. Senza voto. Come Dylan Baker. Un esterno destro. Venduto poi. Senza voto. Alfie Phillips. Un portiere. Preso nella seconda stagione. Senza voto. Anche Archie Wilson. Nonostante abbia avuto qualche presenza. Senza voto anche per lui. E senza voto anche John Crowe. Un ala destra. Dell'Irlanda del Nord. Scusate. Che abbiamo preso alla quarta stagione. Ma non ha mai giocato. Senza voto per lui. Abbiamo Oscar Jackson. Alla sinistra. Venduto. Gli do 6. Perché quelle volte che l'abbiamo utilizzato. Per fare gli obiettivi. Della primavera. Non si è comportato male. 6 per lui. Patrick Henderson. 8. Quasi 8 e mezzo. 8 e mezzo per Patrick Henderson. Preso la prima stagione. Il centrocampista centrale. Ce lo ricorderemo tutti. Grande piede. Ottimo piede. Buone le punizioni. Ottime giocate. Assolutamente di livello. Questo giocatore. Mi dispiace non averlo fatto crescere di più. Ma è stato sicuramente importante. Le volte che l'abbiamo utilizzato. Molto contento di lui. Discretamente contento anche per Ethan Davis. Ragazzi. Il portiere che abbiamo preso alla seconda stagione. Gli do 8 o meno. Perché è stato molto importante all'inizio. Verso la fine vi sarete resi conto che iniziava a calare. Si prendevano dei gol un po' troppo semplici. Però considerato che era molto giovane. L'abbiamo preso dalla primavera. Ed è con noi dall'inizio. È stato comunque importante. Cresciuto sotto le orme di Jerken. 8 o meno per Ethan Davis. Sinceramente meritato. Finisce qua ragazzi. Finiscono qua tutti i voti. Finisce qua il pagellone. Credo di non essermi dimenticato nessuno. In ogni caso. Top. Sicuramente Stevenson. Sabi. Scott. Ikei. Sicuramente questi giocatori qui. Flop. Dennis. Dharami. Forse anche Cantwell. Ma mi dispiace dagli il flop. È stata un po' colpa mia lì. Voglio farvi una piccola statistica. Anche per quanto riguarda i gol. Perché alla prima stagione. Scott ha segnato 16 gol. Sabi 21. Poku 10. E Nob 17. Scott fa anche 9 assist. Quindi da questo punto di vista vi dico che ha aiutato molto. Nella seconda stagione. Scott segna di nuovo 16 gol. Sabi ne segna 51. Devastante. Alla fine Sican però segna 10 gol. Per questo vi dico che i suoi gol li ha buttati dentro. Nob inizia già a calare. Infatti 5 gol. Terza stagione. Scott 17 gol e 17 assist. Sabi 34 gol e 17 assist. Johnston 21 gol alla sua prima stagione e 17 assist. Qualcosa di mostruoso veramente. Scott poi la quarta stagione cala. 12 gol e 11 assist. Sabi 19. Sabi non si è mai fermato. Tantissimi gol. Suarez invece 5 gol e 5 assist. Poca roba. Johnston altri 17 gol e 16 assist. Fenomenale. Qui arriva Scott. Perché alla quinta stagione segna 36 gol e fa 8 assist. Sabi 26 gol e 14 assist. Poku 18 gol. Schlager 8 gol e 9 assist. Johnston 12 gol e 17 assist. La sesta stagione ragazzi. Poku 24 gol. Luque Bacchio fa 18 gol. Daka 17 gol. Quindi forse anche 6 e mezzo se lo poteva meritare. Sabi 23 gol. Scott 48 gol e 10 assist. In tutto Scott in questa carriera ha segnato 145 gol. E Sabi 174 gol. Quindi Sabi è stato il giocatore che ha segnato più di tutto in questa carriera allenatore. Signori questo è effettivamente l'ultimo video dedicato al Colchester. Spero ovviamente vi sia piaciuto rivivere un po' le orme di questa carriera allenatore. Fatemi sapere cosa ne pensate dei voti che ho dato. Noi ufficialmente salutiamo il Colchester ragazzi. Purtroppo sì. Lo salutiamo ufficialmente. Spero vi sia piaciuta questa carriera allenatore. Ne arriveranno tante altre che spero vi divertiranno altrettanto. E ragazzi si chiude una porta ma si apre un portone. Noi ci vediamo alla prossima. C'è un mi piace, un commento, un consiglio e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.